ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi porto sul canale un carica batterie ma mi direte giacomo un caricabatterie sul canale ma quanti ce ne sono di caricabatterie un centinaio un migliaio ce ne sono diecimila sì è vero ce ne sono tantissimi e sfast mi ha contattato mi ha detto se volevo recensire e portare sul mio canale questo trasformato alimentatore caricabatterie gli ho detto di sì ora vi spiego perché perché ha una particolarità che mi è piaciuta molto e ho pensato con qualcuno di voi quindi ho detto lo porto i miei follower perché probabilmente qualcuno di loro potrebbe essere interessato questo tipo di articolo ma non vi spoilerò subito che di cosa si tratta infatti rimanete con me che vediamo l'unboxing e poi ne parliamo insieme iniziamo iniziamo bene avete visto l'unboxing anche una breve insomma carrellata di immagini per quanto riguarda questo caricabatterie davvero particolare ora vi spiego perché intanto vediamo un po nel dettaglio allora il caricabatterie fatto in questo modo vi faccio vedere da questa parte ci sono due scritte come potete vedere da una parte e fast che l'azienda appunto che lo produce e dall'altra parte la scritta gun con il fulmine eccolo qua non so chi di voi lo sa vi spiego rapidamente che cos'è il gun che è un nitruro di gallio praticamente se non ricordo male che andato un po stituire il silicio che normalmente veniva usato nei conduttori ma che appunto aveva delle caratteristiche limitanti confronto a quello che è il gallio gallo che ci permette nel dettaglio di andare a produrre dei componenti elettronici che scaldano molto meno scaldando molto meno ovviamente la possibilità è di avvicinarli molto di più quindi fare dei prodotti un po più piccoli per guardate questo carica batteria come piccolo tenete conto che un 65 watt potrebbe essere davvero molto molto più grande invece davvero piccolino se lo vedete nella mia mano non è che è molto grande come vedete e appunto è possibile farlo perché il gallio scalda molto meno quindi possibilità di avvicinare i componenti di più di quello che si potrebbe fare con silicio tenete conto che questo gallo ovviamente migliora anche a livello qualitativo perché è un conduttore migliore insomma e tante cose a presso però diciamo che ora non so spiegarvi nel dettaglio perché non è questo diciamo nel caso nel video va bene trasformatore come vi dicevo è fatto in questo modo da una parte i due collegamenti per la presa italiana ce ne sono due non c'è la massa a terra magari tanti di voi se lo chiedono come mai perché c'è un doppio isolamento qua si vede il doppio isolamento e questo doppio isolamento permette di non mettere appunto la massa a terra da questa parte quindi nella parte che noi vediamo dove andiamo a collegarci abbiamo tre porte e qui un po la particolarità vi spiego perché come prima porta abbiamo un usb type si che è una classica porta normalissima che però porta 60 watt di ricarica quindi davvero davvero tantissimo nella seconda porta invece abbiamo una usb type a qui la classica usb che è una ricarica davvero molto molto lenta perché è una 1 a poi magari se qualcuno ha qualche domanda in merito me lo chieda che io gli rispondo gli spiego un attimino come si calcolano le ricariche per quanto riguarda invece l'ultima porta abbiamo un hdmi e qui e qui e qui l'incognita perché c'è un hdmi mi chiederete voi in un trasformatore perché questo trasformatore fa anche da hub quindi avete la possibilità di inserire ad esempio qui un computer qui una chiavetta usb per importazione dati eccetera e qui un monito esterno per il vostro computer ad esempio state lavorando con un macbook collegate il vostro macbook tramite l'usb type c e avete l'uscita monitor per poter andare appunto modo più grande per poter lavorare meglio come ad esempio io faccio davvero spesso la seconda porta quindi la type a è stata studiata principalmente non tanto per ricaricare il telefono in quanto per importare dati infatti no è una 3.0 è un importazione dati discreta e quindi andrete appunto importare dati o collegare una tastiera un mouse secondo insomma di quello che vi serve questo qua è un po tutto l'alimentatore all'interno della confezione abbiamo trovato anche questo cavetto davvero molto bello se lo guardate a questa parte una sezione davvero importante perché un cavo che porta fino a 100 watt di corrente quindi un cavo che è una sezione che effettivamente non può essere minorata perché deve portare insomma un po di corrente 100 watt da questo cavo e tenete conto che trasporta date fino a 10 gigabit perché fino a 10 gigabit perché la hdmi che abbiamo visto poco fa quindi questa qui porta fino a 4k 60 fps quindi abbastanza abbastanza dati all'interno la confezione abbiamo provato anche una quick start wind però purtroppo non c'è l'italiano ma è davvero tutto molto molto comprensibile infatti è illustrato con delle immagini che ci fa vedere addirittura che cosa possiamo andare a collegare immagini che troviamo anche sulla confezione qui che tra l'altro è fatta molto bene guardate che bella che c'è anche la calamita si apre rimane in trasparenza comunque come vedete qui all'interno della confezione già ci sono un sacco di dati bene ma abbiamo detto che questo qua potrebbe fare da hub e quindi collegare un computer e collegare anche un monitor esterno molto bene quindi andiamo a vedere come funziona sull'altra scrivania lo vediamo insieme insomma cerchiamo di capire se funziona anche bene oppure no ci vediamo di là bene preparato tutto quello che serve per farvi vedere il funzionamento il mio macbook alimentazione trasformatore il cavetto type si che abbiamo trovato in confezione l'hdmi è collegato al mio monitor principale e anche la nintendo switch perché voglio vedere se effettivamente anche quella viene trasmessa c'è anche il mio microfono qui altrimenti non mi sentite ma quello non c'entra niente con la prova benissimo lo andiamo a collegare l'alimentazione quindi andiamo a fare semplicemente un inserimento di questo tipo e andiamo a collegare anche l'hdmi quindi del monitor dopodiché cosa facciamo apriamo la nostra fascettina carinissima tra l'altro is fast marcata e andiamo a collegare il cavetto type si come prima cosa direi di collegare la nintendo vediamo se funziona accendiamo intanto il nostro monitor così vediamo anche quanto ci mette per collegarsi vediamo se si accende questo monitor all'esterno energetico si spegne facilmente non appena praticamente lo scolleghiamo ecco qui collegata la usb type si vediamo quanto impiega ecco qua già fatto praticamente siamo già connessi come vedete la mia nintendo switch è già connessa al monitor facciamo lo stesso identico test con il mio computer quindi andiamo a scollegare la type si da qui e andiamo a collegarla nel mio macbook inseriamo vediamo quanto ci mette per collegare quindi trasmettere sul monitor principale che abbiamo qui davanti ecco qui anche qua qualche secondo e siamo connessi quindi un hub che tra l'altro funziona anche abbastanza bene come vi dicevo come dato lui trasporta vi faccio vedere che trasporto qua sopra questo proprio per farvi capire che siamo connessi e magari andiamo a vedere anche il mio canale youtube è quello qua interrompiamo la musica bene funziona 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 perfettamente quindi possibilità come vedete di collegare tramite questo carica batteria chiamiamolo così anche un monitor esterno come vedete funziona davvero anche anche bene possiamo andare a vedere appunto internet collegarci ad esempio nel mio caso io mi collego spesso per montare video perché c'è tanto spazio su questo momento quindi torniamo un attimo di là e tiriamo le conclusioni finali scusa giacomo non ho capito hai detto conclusioni finali sì 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 conclusione finali beh la conclusione finale è che vi lascio il link nella descrizione del video sapete perché perché ve lo consiglio ovviamente avete visto voi con i vostri occhi che effettivamente funziona quindi carica batterie slash hub e vi dirò di più questo hub è davvero così versatile potete utilizzarlo per tutto ad esempio potete anche trasmettere su un proiettore esterno quello che c'è sul vostro computer ad esempio un film o cose di questo tipo è davvero versatilissimo potete giocare a nintendo switch collegando un controller pro con il cavo per esempio davvero versatile in ogni senso che dire io vi saluto vi darò appuntamento sempre qui al prossimo video sul mio canale youtube lasciate un like se il video vi è piaciuto e niente accendete la campanella così vi avviseranno se volete essere avvisati nel caso in cui pubblicherò un altro video l'appuntamento è sempre qui sul mio canale youtube ciao